Vincere per mantenere il più tre sulle seconde e dare un altro segnale al campionato. Il campo basso di Pergolizzi va all'assalto del Matese di Urbano, un testacoda che vedrà opposta la capolista al fanalino di coda del Girone F. Ma nulla è scontato, la concentrazione deve restare al massimo per evitare cali di tensione. Subito a disposizione i nuovi acquisti. Su tutti il gigante d'attacco Niccolò Romero, che potrebbe essere schierato titolare o impiegato nella seconda parte del match, così come il terzino Lambiase e il centrocampista del Prete. I lupi puntano a raggiungere quota 40 in classifica nella prima delle due partite consecutive in casa, prima i campani, poi domenica prossima l'atletico Ascoli. All'andata la squadra del capoluogo si impose per 3-0, con doppietta dell'ex Corvino e gol di Abonchelet, in un match senza storia. L'incontro, con fischio di inizio alle 14.30, sarà arbitrato da Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, assistito da Lattarulo di Treviglio e Darvish di Milano, atteso un ottimo pubblico sugli spalti dell'Avi Corsalium.